ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi voglio fare vedere il mio portafoglio nuovo che ho comprato da pochissimo su amazon io ho già tre portafogli due portafogli di riserva però questo qua mi è piaciuto troppo l'ho voluto comprare costato sui 22 euro una cosa del genere comunque della rete così si chiama questa marca ed è praticamente con la catena e poi si apre così e c'è un sacco di scompartimenti guardate qua si può mettere la carta d'identità la patente un sacco di tessere ancora tesser c'è anche lo spazio per la memory card del cellulare se uno la vuole portare qua e poi c'è lo spazio per i soldi in più ci sono queste queste cerniere dove si possono mettere i di spicci o qualcos'altro che si vuole mettere comunque veramente molto bello e su amazon si ama rete questo portafoglio il bello che c'è alla catena dove si mette si può mettere nei jeans praticamente è semplice si mette la catena nel davanti di solito questo si mette davanti e poi si si mette il portafoglio nella tasca davanti comunque molto completo sicuro e buono secondo me comunque vi lascerò un altro video farò dove quando lo userò per farvi vedere com'è indossato è tutto così lo vedete direttamente comunque per questo video è tutto iscrivetevi al canale guardatevi gli altri video io parlo di tantissime altre cose di vestiti di soft hair di armi di qualunque altra tantissime cose ci vediamo al prossimo video ciao ciao